Ciao, sono Stefano Beltrame, ho 25 anni, vengo dall'Italia, sono un giocatore in prestito dalla Juventus e quest'anno giocherò qui al Den Bosch. La mia posizione in campo è centrocampista offensivo numero 10. Ho scelto FC Den Bosch perché questo club ha molte ambizioni, puntiamo ad andare in eredivise e il nostro obiettivo è appunto quello. Della città di Den Bosch mi piace lo stile della città e mi piace molto la via dei ristoranti ed è una città molto tranquilla. Matthew, my heart!